Vieni qua e ti faccio passare subito. Vieni qua. Ma che hai vinto qualcosa? Aspetta, ti faccio questa qui perché Bocciolo ti vuole bene. No? Questa ti fa passare l'incubio, almeno te la vedi tutte le sere, che ti passa l'incubio del Genoa. Aspetta, c'è posta per te. Ma tu me l'hai portata per posto del Genoa. No, 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 io l'ho portata quando tu eri... Mettele qua, Carivo. No, no, io l'ho portata quando tu poi dicevate che la Roma che non si riguarda con il Barcellona. Si, ma mi hai dato a posto del Genoa. Aspetta, il momento, non andate via, che c'è posta per te come te Filippi, aspetta. Ma la Roma ha vinto qualcosa? C'è qualche trofeo della Roma, non riesco a capire. Buono del cazzo, ecco qua, non riesco a capire. Questa è feggiunta, amico mio. I festeggiamenti. Meno 12, che freddo. Grande grifone. Ieri sera ho visto qualche e il grifone magna l'aquila. Ma io non riesco a capire i festeggiamenti. Aspetta, ti spiego pure perché. Aspetta, questo è perché ti addorcisce la gola che hai la raccettina, senti, e dici a me. Questa è la red e bulla che ti dico su. Beh, questa me la bevo un fatto. Metti qui, la maglietta è tua. No, no, la maglietta è tua. No, no, la maglietta è tua. No. Eh no. Eh no. Eh sì, allora. Che farei cicli regali? Ma arriva una giovane, stanno arrivando. Ma dove stanno? Spendi i soldi per qualche cosa. Meno 12, come stanno? Spendi i soldi per qualche cosa. Spendi i soldi per qualche cosa. Spendi. Sesto eh. C'è problema. Sesto. Mancano tre mesi di campionato. Come no? Domenica vai a Udine. E che? Sono antilaziale. Sono antilaziale, è vero Giù? Come sei te? Antiromanismo. E tutti quelli che giocano. Contra la Roma. E io tutti quelli contro la Lazio, no? Infatti. Oh, bravo. Lui dice che a dar Genova. Ieri c'era il rigore, però, gli hanno rubato. No, no, ricordo. Ah no, perché dicono gli hanno... Chi ha detto? 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 sentì. Sentì a mentola, molto odiato. E il rigore... Oh, lele! Oh, la la! E il grivone è qui! E il grivone là! E il rigore c'era, per carità. Nessuno dice niente, bella roba qui. Ma poi... Ma arbitragio scandaloso. Ma dove hai aggiunto? Ma no, arbitragio scandaloso. E infatti non aveva. Aspetta. Oddio non dico arbitragio scandaloso sul rigore. E su che cosa? Il dopo! Ma che... e su che cosa? Il dopo di chi? Il dopo di chi? Non è secondo te? Ma tu, male! Sei tu che spari davvero scambigliato scambagliato!